La procura di Siena, che ha indagato sulla morte di David Rossi, aveva ricevuto la relazione della Polizia Postale, in cui si diceva che la mail in cui il dirigente MPS annunciava il suicidio era stata creata dopo la sua morte. Franca Bursone, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, competente nei confronti dei magistrati toscani, getta nuove ombre sul caso David Rossi. Il giudice, oggi in pensione, aveva trasmesso gli atti dopo aver archiviato l'inchiesta su presunti festine a luci rosse, a cui avrebbero partecipato alcuni PM senesi e che per questo, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero archiviato le indagini sulla morte di Rossi. L'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena è morto la sera del 6 marzo 2013, dopo essere caduto da una finestra laterale della sede centrale di MPS di Rocca Salimbrano, Beni. Secondo la polizia postale, la mail in questione, apparentemente inviata il 4 marzo 2013, è stata invece creata il 7 marzo. Il messaggio è collocato all'interno di uno scambio di mail tra Rossi e l'ex AD del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, il quale, davanti ai magistrati, ha riconosciuto tutte le mail di quel giorno, ma non quella in cui Rossi avrebbe manifestato l'intenzione di suicidarsi. A riaccendere i riflettori sul caso, il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, che per mercoledì, fa sapere il Presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin, ha convocato in via d'urgenza l'ufficio di Presidenza per affidare ai corpi speciali dei carabinieri, già incaricati della Maxi Perizia, uno specifico ed articolato esame sul materiale informatico. Grazie.